Lezione di storia è stato questo il tema dal quale ha preso spunto l'evento organizzato dall'associazione Terrenziani Mare e Terra da Mare, un momento di riflessione per cogliere gli spunti per costruire una comunità sostenibile tra i comuni del nord estramento. L'evento è stato preseduto dal dottor Vito Leone che ha sostenuto il progetto dell'unione delle quattro comunità Surbo, Trepuzzi, Campi, Salentina e Novoli, cominciando da un focus su un elemento fondamentale, l'eredità storica di questi quattro territori. Noi siamo uniti da aspetti culturali, da una visione comune, da una storia comune, da radici e tradizioni e questo va prima di tutto valorizzato. Non si dà un'identità ad un territorio se non vi è un percorso condiviso e questa iniziativa va proprio nella direzione giusta di pensare al futuro partendo proprio da questo. La prima considerazione è il lavoro culturale che bisogna fare per far comprendere a tutti i nostri cittadini le tradizioni comuni e la forza che noi abbiamo dei legami storici che mettono insieme un intero territorio. Pensate a Cerrate e al monastero di Sant'Elia, storicamente collegati e che danno una identità, una vocazione culturale, storica, economica e pasaggistica all'intero territorio del nord Salento. Questo è importante e fondamentale per avviare altri aspetti che sono di carattere amministrativo, penso alla collaborazione istituzionale e al percorso per arrivare ad una fusione dei comuni. Questi mi sembrano aspetti fondamentali.